Dallo stadio Giuseppe Meazze in San Siro di Milano, Inter-Juve. Balla verso Maicon che la tocca a piena, poi cambiosso! Sul fondo! Ixtani attraversone, basso Madri, salvataggio, Vito! Pucinic, 1-0! Vidal, a occhio che adesso parte in contropiede la Juventus, Madri tiene in gioco se stesso, con un movimento a rientrare che gli permette di presentarsi in area di rigore! E fuori! Snyder che esce con una magia, Maicon destro! Maicon! 1-1! Maicon! Traversione per Pazzini! Traversa di Pazzini! Vucinic, aspetta il movimento di Marchisio che arriva, 1-2! Balla di ritorno! Claudio! Marchisio! 2-1! Suggerimento per Marchisio che è completamente libero, la caccia, Marchisio! Gira il pallone! Piede, calcio di rigore! Mattici è rimessa da fondo, l'arbitro! Calcio di punizione! Mucchio, Vucinic si è salvato Castellazzi! Prova ad andare Stigaripia, la chiusura di Musio che non arriva, Stigaripia! Stigaripia in area di rigore! Castellazzi in calcio d'angolo! Poi la palla arriva a Del Piero, posizione regolare! Del Piero in area di rigore! Del Piero! Scicca di destro Del Piero! Juventus batte l'Inter! 2-1!